Due giorni dedicati all'Abruzzo da parte del leader nazionale di azione Carlo Calenda per sostenere la candidatura a presidente di Luciano D'Amico in vista delle prossime elezioni regionali. Calenda ha fatto prima visita alla città di Teramo e domani sarà a Pescara. Io sono qui per sostenere Luciano D'Amico per una ragione molto semplice, cioè che è una persona che ha dimostrato capacità di gestione rimettendo a posto aziende molto in difficoltà, è una persona colta, è un professore, conosce l'economia e ha un'esperienza e una capacità che è incomparabile rispetto all'attuale governatore. Questa regione ha la sanità letteralmente a pezzi, ha 100 milioni che paga alle altre regioni italiane per far curare gli abruzzesi, non sta facendo assolutamente nulla sulla parte infrastrutturale. Io penso che sia il caso di cambiare pagina. Guardi, noi come azione non valutiamo mai per principio le persone se sono di centro-destra o di centro-sinistra, ma la qualità delle persone. E secondo me in questo caso la qualità è incomparabile. L'invito del segretario nazionale Calenda agli abruzzesi è stato quello di non votare per moda, ma di votare guardando chi sono i candidati e il loro valore. Non per moda, non perché ci mettiamo una targhetta che è destra o sinistra a prescindere, perché se no stiamo consegnando il nostro voto senza ragionare dai cittadini. Io penso che in questo caso, voglio dire, stiamo parlando di cose che sono talmente diverse dal punto di vista proprio di competenza, che è una scelta che veramente deve prescindere schieramente. Guardi, io non amo il campo largo. E per fare questa scelta così convinta e venire in Abruzzo vuol dire proprio che penso che ce ne sia tanto bisogno. Io mi affido al Presidente, perché è una persona di qualità. È, credo, l'unico caso, o quasi l'unico caso in Italia, in cui azione ha accettato una coalizione così ampia. E lo ha fatto solo in nome della qualità del candidato. Quindi per me quello che vale è il professor d'amico. Punto. Il resto non mi interessa.